Grazie mille, Anziano Chiron, ti voglio bene. Nel Nuovo Testamento apprendiamo del cieco Bartimeo, che gridava a Gesù desiderando un miracolo. E Gesù gli disse, va, la tua fede ti ha salvato. E in quell'istante, egli recuperò la vista. In un'altra occasione, un uomo abbezzaida desiderava essere guarito, ma questo miracolo non avvenne immediatamente. Anzi, Gesù lo benedì due volte, prima che fosse guarito. In un terzo esempio, l'Apostolo Paolo per tre volte pregò il Signore nelle sue afflizioni, eppure, per quanto ne sappiamo, la sua preghiera sincera non fu esaudita. Tre persone diverse, tre esperienze uniche. Quindi, ecco la domanda. Perché alcuni ricevono rapidamente i miracoli desiderati, mentre altri sopportano pazientemente, sperando nel Signore? Possiamo non conoscere il perché, eppure con gratitudine conosciamo Colui che ci ama e fa tutte le cose per il nostro bene e la nostra felicità. Dio che vede la fine sin dal principio ci rassicura che le nostre avversità e le nostre afflizioni non saranno che un breve momento e che saranno consacrate per il nostro profitto. Per aiutarci a trovare ulteriore significato nelle nostre difficoltà, l'anziano Orson F. Whitney ha insegnato «Nessun dolore che proviamo e nessuna prova che subiamo sono sprecati, ma crescono la nostra conoscenza. Tutto quello che sopportiamo con pazienza rafforza il nostro carattere, purifica il nostro cuore, espande la nostra anima e ci rende più generosi e caritatevoli. Ed è attraverso il dolore e la sofferenza, le prove e le tribolazioni, che acquisiamo l'istruzione che siamo venuti ad acquisire qua giù e che ci renderà più simili ai nostri genitori celesti. Comprendendo che la potenza di Cristo avrebbe riposato su di Lui nelle sue afflizioni, l'Apostolo Paolo disse umilmente «Perché quando sono debole, allora sono forte?» Le avversità della vita ci mettono alla prova. Perfino il Salvatore imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì. E un giorno dichiarerà con compassione «Ecco, io ti ho raffinato, ti ho scelto nella fornace dell'afflizione». Giungere a confidare negli scopi divini di Dio infonde speranza nelle anime esauste e accende la determinazione nei periodi di angoscia e di dolore. Anni fa il presidente Russell M. Nelson ha espresso questo prezioso pensiero «Se guardiamo tutte le cose con una prospettiva eterna, il nostro carico diventa molto più leggero». Io e mia moglie Jill siamo stati recentemente testimoni di questa verità nella vita fedele di Holly e Rick Porter, il cui figlio dodicenne, Trey, è deceduto a causa di un tragico incidente. Con le mani e i piedi gravemente ustionati nell'eroico tentativo di salvare il suo caro figlio, in seguito Holly ha reso testimonianza alla riunione sacramentale del suo rione della grande pace e della grande gioia che il Signore aveva riversato sulla sua famiglia nella loro angoscia, usando parole come «miracoloso», «incredibile» e «meraviglioso». Il dolore insopportabile di questa preziosa madre era stato sostituito da una pace superiore grazie a questo pensiero. Le mie non sono le mani che salvano, quelle sono le mani del Salvatore. Invece di guardare le mie cicatrici per ricordare ciò che non sono riuscito a fare, ricordo le cicatrici del mio Salvatore. La testimonianza di Holly adempie la promessa del nostro profeta. «Se penserete celeste, vedrete le prove e l'opposizione sotto una nuova luce». L'anziano D. Todd Christofferson ha detto «Credo che la sfida di superare l'avversità e di crescere grazie a essa ci sia risultata allettante quando Dio presentò il suo piano di redenzione nel mondo preterreno. Adesso dovremmo accostarci a questa sfida sapendo che il nostro Padre Celeste ci sosterrà e tuttavia è tuttavia cruciale che noi ci rivolgiamo a Lui. Senza Dio le esperienze cupe della sofferenza e dell'avversità tendono a farci sentire scoraggiati, disperati e persino amareggiati. Per evitare l'oscurità dello scontento e trovare invece maggiore pace, speranza e anche gioia nelle sfide difficili della vita, offro come inviti tre principi divini. Uno. Giunge una fede più forte quando mettiamo Gesù Cristo al primo posto. Egli dichiara «Guardate a me in ogni pensiero, non dubitate e non temete». Il Presidente Nelson ha insegnato «La nostra vita eterna dipende dalla fede che abbiamo in Cristo e nella Sua espiazione». Mentre l'Ottavo contro l'intenso dolore causato dal mio recente infortunio, ho provato un apprezzamento ancora più profondo per Gesù Cristo e per il dono inintelligibile della Sua espiazione. pensateci, il Salvatore ha sofferto pene, afflizioni e tentazioni di ogni specie per poterci confortare, guarire e soccorrere nel momento del bisogno. Ha continuato dicendo «Il mio infortunio mi ha fatto riflettere più e più volte sulla grandezza del Santo di Israele». Durante la mia convalescenza il Signore ha manifestato il Suo potere divino in modi dolci e inequivocabili. «Nel mondo avrete tribolazioni, ma fatevi d'animo. Io ho vinto il mondo». Ci incoraggia il nostro Salvatore. Due. Giunge una speranza più luminosa se ci prefiguriamo il nostro destino eterno. Parlando del potere intrinseco derivante dal tenere davanti agli occhi la visione delle benedizioni meravigliose promesseci dal Padre, la sorella Linda Reeves ha attestato «Non so perché abbiamo così tante prove, ma ho la sensazione che la ricompensa sia così meravigliosa, così colma di gioia e così al di là della nostra capacità di comprendere che quando quel giorno verrà, vorremmo dire al nostro Padre amorevole e misericordioso. E questo era tutto ciò che era necessario. Quale importanza avrà ciò che abbiamo patito qui se alla fine tali prove ci qualificano per la vita eterna nel Regno di Dio? Il Presidente Nelson ha espresso questo punto di riflessione. Pensate alla risposta che il Signore diede quando Joseph Smith implorò di ricevere sollievo nel carcere di Liberty. Il Signore insegnò al profeta che il modo disumano con cui veniva trattato gli avrebbe dato esperienza e sarebbe stato per il suo bene. «Se lo sopporterai bene», promise il Signore, «Dio ti esalterai in eccesso». Il Signore stava insegnando a Joseph a pensare celeste e a prefigurarsi una ricompensa eterna invece di concentrarsi sulle strazianti difficoltà del momento. Il cambiamento di prospettiva di Joseph gli portò una profonda santificazione, come si riflette in questa sua lettera. «Dopo essere stato rinchiuso per cinque mesi tra le mura di una prigione, mi sembra che il mio cuore sia molto più tenero di quanto lo sia mai stato prima. Penso che non avrei mai potuto provare i sentimenti che provo ora se non avessi patito i torti che ho subito». 3. Giunge maggior potere se ci concentriamo sulla gioia. Nelle ore più cruciali e di maggior agonia il nostro Salvatore non si ritrasse, ma beve la coppa amara. Come riuscì a farlo? Apprendiamo che fu per la gioia che gli era posta dinanzi che Cristo sopportò la croce, perché la sua volontà fu assorbita dalla volontà del Padre. Questa parola, assorbita, mi tocca profondamente. Il mio interesse è aumentato quando ho saputo che in spagnolo assorbita si traduce con consumata, in tedesco con divorata e in cinese con inghiottita. Pertanto, quando le difficoltà della vita sono estremamente dolorose e opprimenti, ricordo la promessa del Signore secondo cui non soffriremo alcuna sorta di afflizioni, salvo che siano sopraffatte, assorbite, consumate, divorate e inghiottite dalla gioia di Cristo. Vedo in molti di voi questa gioia che supera la comprensione terrena, anche se le vostre coppe amare non sono state ancora rimosse. Grazie perché osservate le vostre alleanze e state come testimoni di Dio. Grazie perché tendete una mano per benedire tutti noi mentre dentro il vostro cuore sommesso verrà nascosto un dolore che l'occhio non riesce a vedere poiché quando portate agli altri il sollievo del Salvatore lo trovate voi stessi come ha insegnato la Presidentessa Camille Johnson. Torniamo ora alla riunione sacramentale dove siamo stati testimoni del miracolo della famiglia di Holly Porter soccorsa dal Signore. Mentre sul pulpito riflettevo su cosa avrei potuto dire per confortare questa famiglia straordinaria e i loro amici mi è venuto questo pensiero usa le parole del Salvatore. Quindi concludo oggi come ho fatto quella domenica con le sue parole che guariscono l'anima ferita. venite a me voi tutti che siete travagliati ed aggravati e io vi darò riposo. Allevierò pure i fardelli che sono posti sulle vostre spalle così che non possiate sentirli più sulla schiena anche mentre siete in schiavitù affinché possiate sapere con sicurezza che io e il Signore e il Dio conforto il mio popolo nelle sue afflizioni. non vi lascerò orfani tornerò a voi con gioiosa riferenza attesto che il nostro Salvatore vive e che le sue promesse sono sicure soprattutto a coloro tra voi che sono afflitti in qualche maniera attesto che il nostro Padre Celeste ascolta le vostre lacrimose suppliche e risponderà sempre con perfetta saggezza possa Dio accordarvi come ha fatto con la nostra famiglia in momenti di grande necessità che i vostri fardelli siano leggeri persino sopraffatti dalla gioia di Cristo nel sacro nome di Gesù Cristo Amen Grazie a tutti